Il documentario è dedicato a Umberto Fiori, alla sua figura di poeta ma anche di musicista ed è un omaggio anche a Sarzana perché Umberto Fiori è nato a Sarzana e poi ha vissuto e vive a Milano. Abbiamo pedinato Umberto, gli abbiamo fatto uscire le cose più importanti della sua vita e della sua poetica abbiamo coinvolto alcuni suoi amici che ci hanno aiutato nel ricostruire un po' la sua figura vale a dire Luca Francesconi che è un musicista colto molto importante, Moni Ovadia e Marco Petros che è un pittore straordinario che sono amici e con cui Umberto Fiori ha collaborato nel corso della sua carriera di musicista e di poeta. Il film si colloca in una collana che si chiama Gente di Milano che è a suo tempo prodotta dalla provincia di Milano, ormai ex, che contiene una settantina di immagini di personaggi della cultura milanese importanti, tra cui si colloca a pieno titolo anche Umberto Fiori. 40 minuti alla conclusione della proiezione, Marco Belpoliti e Umberto Fiori ci racconteranno altre storie intorno alla poesia, alla letteratura e all'arte di vivere. Grazie, buona visione e buona giornata. Grazie a tutti. Allora, abbiamo un po' di tempo per parlare di questo film e quindi anche del tuo lavoro. Allora, tre cose soltanto così per cominciare. Allora, la prima considerazione è che non c'è nessun critico letterario e infatti le cose più intelligenti, più acute, le ha dette Francesconi sulla tua poesia, su come nasce. E' un giudizio di un musicista, c'è molto orecchio in quello che ha detto, ma insomma è molto acuto. La seconda cosa è, è la seconda volta che vedo il film, l'ho visto sul piccolo schermo, sul computer. Mi sembra che tu venga fuori moltissimo come persona cantando. Direi che la cosa che mi colpisce di più, e anche questa volta, rivedendolo, è quando tu canti l'ho e ci metti un'energia e una passione che invece quando parli, nell'essere compassato, nell'essere tranquillo, nell'essere appunto, come ha detto Moni e Vadia, insomma, con questo sottotono, non c'è. E lì mi sembra che venga fuori un po' un Umberto Fiori che sta nella poesia, che sta acquattato nella tua poesia. La terza cosa è il finale, che non mi pare casuale, anzi direi che sarebbe secondo me tutta la chiave per ricominciare a riparlare del tuo lavoro e anche di te come persona. Perché le due cose, soprattutto nella poesia, non si separano mai. Sono, come una volta aveva detto Pasolini parlando di un altro scrittore, sono come un doppio vetro. Noi quando guardiamo il vetro non li vediamo mai, i due vetri, ormai tutte le case sono isolate, c'è il doppio vetro con dentro questa parte d'aria che separa i due vetri, vediamo solo un vetro. E poi ci sono due vetri nella tua poesia. Allora che cos'è questo finale che giustamente loro hanno messo come anche una battuta prima ancora dell'intervento di Moni e Vadia? Ho sbagliato, da capo. Ecco, allora tutta la tua presenza in questo bellissimo film, in questo documentario, docufilm come si dice oggi, è una cucitura dove gli sbagli ci sono ma non sono detti e sono affidati alla poesia. In fondo il muro che dà il titolo al tuo lavoro e che è l'immagine su cui ritorni, poi dopo magari torniamo anche su questo tema dell'immagine e non delle parole su cui tu hai insistito, effettivamente diciamo il muro cieco è uno sbaglio dell'architettura. Tu vai a Milano e vedi gli sbagli. Ecco, com'è che sta lo sbaglio dentro la tua poesia e dunque anche dentro la tua vita? Intanto buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Quel finale quando l'ho visto mi ha lasciato un po' perplesso. Massimo Cecconi evidentemente ha deciso di fare questo sgambetto e ce n'erano tanti altri di sbagli, perché durante le riprese ovviamente c'erano queste poesie da leggere e a volte uno incespica, appunto legge una cosa per l'altra, eccetera. Beh, probabilmente come suggerisci tu Marco, questo ha a che fare anche con l'immagine di una città in cui ci sono delle falle, delle faglie, dei buchi oppure dei muri ciechi. E in effetti la poesia, come ho detto nel video, è inutile che lo ripeta, la mia poesia nasce da una decisione di debolezza rispetto all'errore. Cioè non da un'idea di controllo totale della lingua, dell'aspetto estetico della poesia, ma da un abbandono alla propria inermità. E il muro cieco mi sembrava anche un po' questo, come Gadda si inferocisce nelle meraviglie d'Italia contro i muri ciechi e contro la sciatteria di questi muri lasciati lì in attesa di qualcosa che poi non arriverà. Invece io ero molto affascinato da questi errori, appunto errori architettonici, o diciamo da queste falle architettoniche, e mi sembrava veramente, come dico in una poesia, che mi consolassero. perché alla fine anche Milano aveva la luce, in questi muri aveva una luce quasi di carne che la umanizzava. nel libro che si chiama La Bella Vista, che sono riuscito a scrivere dopo molti anni di attesa su La Bella Vista, cioè la Bella Vista di Lerici, e dico che appunto la luce della Bella Vista io l'ho rivista nei muri ciechi di Milano. Questo è alla fine la cosa. Però di sicuro la luce sul muro, che è il titolo del video, parla proprio di questa centralità, di qualcosa che è disumano, inumano, minerale, un muro, cioè un ostacolo, qualcosa di duro, di ostico, che in realtà poi si mette a parlare, che dice qualcosa, che attraverso la luce si manifesta come una presenza, come un volto, come la faccia di qualcuno che ti dice qualcosa, che vuol dire qualcosa. Continui a parlare come un poeta, vorrei stanarti un po' di più, prova a parlare come un cantante, cioè com'è che parlo un cantante rispetto a questo, ai muri? Perché poi queste due personalità che cerchi di amalgamare, non si amalgama. Io penso anche un po' a questa cosa, torno a dire, che mi colpisce che quando tu canti, anche quando hai cantato i tuoi versi, c'è un di più di energia che esce. Mentre nella tua poesia questa energia non solo è catturata dalle immagini, è catturata dai versi stessi, ecco, come se tu erigessi tra te e il mondo quello stesso muro che vai cantando. Che cos'è il cantante? Beh, certo, cantare è un comportamento particolare, io parlo di voce in poesia, ma la voce poi l'ho usata fisicamente quando cantavo, quando cantavo di professione, ma anche dopo quando lo facevo occasionalmente. In effetti il canto tira fuori qualcosa di molto profondo, di molto viscerale, animale, ma queste sono ovvietà, e anche di molto liberatorio. Nella poesia questa cosa non ci può essere, sia perché la poesia è silenziosa, sia perché comunque per me la voce nella poesia è cifrata, è infiligrana, è qualcosa di molto indiretto. Mentre nel canto viene fuori anche in un modo imbarazzante. Io per esempio quando li vedo filmati come questi, quello che abbiamo fatto a Milanesiana, sulle canzoni di Franco Loi con Tommaso Leddi, sono sempre molto imbarazzato, perché è come se mi vedessi nudo. Quella lì è una canzone nella quale io vado molto su rispetto alla mia estensione, e però mi piace molto anche. È un'avventura. Tra l'altro quel canto lì l'ho fatto alla mattina, cosa che non si fa mai, non si canta mai la mattina di solito, ma lì l'occasione era la mattina, quindi ho dovuto cantare quelle robe di mattina. E non sai mai se riesci a farlo, perché la voce appunto non è uno strumento, tu lo prendi, lo monti, suoni i tasti e va. La voce non sai mai se c'è o se non c'è, può anche non esserci, può anche mancarti all'ultimo momento. Nella scrittura questo non succede, perché hai tempo di correggere gli errori, le sbavature, eccetera, hai un maggiore controllo. Ma appunto io cercavo di mettere insieme questa mancanza di controllo che c'è nella vocalità, nella oralità, e invece il controllo che c'è nella scrittura. La mia idea, non so poi se ci sono riuscito, non devo dirlo io, era quella di ottenere un effetto di precarietà, di precarietà del dettato, del parlato, dentro la scrittura. Non quindi un oggetto letterario, una cosa costruita, ma come se ci fosse, come dico nel video, come se ci fosse un discorso che viene fatto in quel momento e che potrebbe anche inciampare, potrebbe anche mancarsi, potrebbe scivolare, eccetera. Cerco sempre un effetto di precarietà del parlato, nella poesia, che mi sembra che dia un effetto di autenticità, di vitalità. In effetti questo aspetto, diciamo, che tu hai definito animale, questa natura animale, c'è nella tua poesia, ed è soprattutto nell'immagine. Cioè l'immagine rivela, diciamo così, è sempre un'immagine stridente, un piccolo dramma, una piccola tragedia, qualcosa, anche quando l'incontro con me, con la vigilessa, con questo personaggio, apre qualcosa, ma è sempre, diciamo, un dramma. Le parole lo tengono insieme, lo contengono, e la cura con cui le metti, insomma, questa è l'attenzione che diceva giustamente Francesconi, che probabilmente viene dal fatto che tu hai cominciato anche, per quanto avessi scritto poesia prima, a scrivere versi, e la canzone deve avere una immediatezza di immagine. Un'immediatezza di immagine. Però appunto il tuo lavoro contiene, io sento queste due cose, ecco questo, l'immagine rivela, rivela una natura che, meglio no, sì, che le parole velano, che le parole velano, che le parole contengono, che le parole, esattamente proprio come le bottigliette qui su questo tavolo, questa plastica trasparente, ci fa vedere l'acqua dentro, ma la contiene, se non ci fosse, si espanderebbe su questo tavolo, ecco, è come se tu fabbricassi delle bottigliette trasparenti, dove si vede dentro il dramma, piccola tragedia di ogni giorno, quotidiana, di cui il muro è l'emblema, però, diciamo, ben formate, come una bottiglietta, ecco, non so se tutti ci ritrovi con queste immagini. Forse tragedia è una parola un po' troppo forte, ci sono sempre degli aneddoti, delle cose, delle piccole cose che accadono, che però hanno per me una grande intensità, e mi ricordo che quando era piccolo, mio figlio Tommaso, che è qui tra l'altro, in sala, le qualificava come le avventure di papà, avventure del cavolo, perché in realtà io raccontavo, appunto, cose minime che mi potevano succedere, ma queste cose minime, poi, mi toccavano talmente tanto, che di alcune scrivevo, appunto, tu dici, tu l'hai qualificata come vigilessa, in realtà è un vigile, ed è del tutto ipotetico, una signora, un vigile, eccetera, oppure due persone che si incontrano di fronte a una strettoia, e devono decidere chi passa per primo, oppure dei cani che si mettono a litigare a un angolo, perché i loro padroni cercano di tenerli, e loro invece, appunto, qui in questo caso l'immagine è molto forte, perché c'è il cane, che è questa visceralità, che c'è dentro anche tutti noi, e il padrone che cerca di trattenerlo, ma il cane vorrebbe mordere l'altro cane. Sono molti cani nella mia poesia. Ho perso il filo. Queste immagini, appunto, queste avventure, sono trattenute, nel senso che trattengono il sublime, che dovrebbe essere l'elemento della poesia lirica, lo schiacciano, lo trattengono, lo arginano, per non ricattare il lettore. Ecco, così la penso io. Io cerco di consegnare a chi legge una cosa che mi ha emozionato, ma senza mettermi a urlare, o a cantare, appunto, in poesia, perché la poesia deve avere, per me almeno, deve averlo, un ritegno, qualcosa che sta indietro, qualcosa che non ti prende per la giacchetta, e ti dice, vedi, devi sentire questa cosa qui, che poi è, diciamo, la retorica in senso deteriore. È una risoluzione, è una soluzione, anche poi, letti la parola, insomma, quando si dissolve qualcosa, in effetti, ti dissolve anche nella poesia, come in una soluzione al 10%, al 20%, al 30%. Allora, c'è l'immagine, c'è l'immagine, c'è la rivelazione, il muro, la luce sul muro, con l'immagine infantile della scuola, elementare, però non c'è niente. Cioè, nel senso che, comunque, è una metafisica senza speranza, insomma, perché non si apre nulla, insomma, non è San Paolo che cade da cavallo, perché incontra il vigile, o ci sono i cani, che litigano, e vede la luce. La luce è quello che vedi, ma non c'è altra luce, ma in questo senso è anche un orizzonte da questo punto di vista cieco, esattamente come i muri che vedi, insomma, c'è speranza, ma non c'è speranza. Però nei muri e nelle facciate delle case io vedo, infatti, la prima raccolta, dopo case, voglio dire, la prima raccolta consistente si chiama esempi, e gli esempi, come dice la copertina che ha fatto Giovanna Sereni, che non abbiamo avuto modo di nominare in questo video, ma che è stata molto importante per me, ha fatto tante copertine, ecco, nella copertina l'esempio è la facciata della casa, di una casa qualsiasi di Milano. In che senso è un esempio? Perché il volto dell'altro ti si mostra e ti dice come come si deve essere, ti dice, ti mette al tuo posto, ti colloca nel mondo e ti insegna a stare al mondo, che significa stare di fronte a qualche cosa. Che poi questo qualche cosa non abbia un insegnamento esplicito, un insegnamento specifico, una predica da fare, e questo è la cosa più difficile. Io penso sempre, ho nominato tante volte Kafka qui, io penso sempre all'apologo che si chiama davanti alla legge, che è contenuto nel processo e in cui c'è questo uomo di campagna che sta davanti alla porta della legge e vorrebbe entrare, come tutti ricorderete, ma alla fine muore stando di fronte alla legge, perché di fronte alla legge si può stare e non si può stare dentro la legge. Ecco, per me l'immagine del muro che ci sta di fronte è un po' questo, cioè imparare a stare di fronte a qualcosa che non ha una annunciazione da fare ma che tu non puoi oltrepassare comunque. Questo volto dell'altro è qualche cosa oltre il quale non puoi andare. Ora faccio un'ultima domanda poi direi data l'occasione qui a Sarzana insomma la tua città di lasciare la possibilità di intervenire alle persone che sono qua presenti. Allora, ieri siamo andati a vedere la tua casa di cui tutti questi anni che ci siamo frequentati tanti anni perché io e Umberto ci frequentiamo fuori dalla letteratura soprattutto d'estate al mare e siamo andati a vedere la tua casa e la rivelazione io finalmente l'ho avuta tu l'avevi già raccontata ma insomma bisognava vederla è appoggiata alle mura quindi diciamo dalle mura ai muri c'è qualcosa che continua nella tua presenza ecco le mura sono ciò che ci difende le mura sono scomparse man mano la sicurezza è aumentata più diciamo anche i muri delle case sono diventati più sottili ci sono le mura le mura di Sarzana dove tu sei cresciuto quel giardino di cui abbiamo visto l'immagine di voi bambini che stringevate la magnolia che la abbracciavate abbracciare gli alberi è diventato adesso di moda e poi ci sono i muri ci sono i muri di Milano quindi insomma c'è questa presenza solida ecco questa ricerca della solidità in mezzo a tanti errori che sembra accompagnare un po' la tua esistenza è così? sì direi che è un'interpretazione possibile poi le mura in realtà io dico che la casa è sulle mura ma sulle mura c'è il giardino veramente e sotto c'è il fossato non so le mura tra l'altro ora che mi viene in mente c'è anche un muro cieco lì proprio da una parte c'è un muro cieco che probabilmente io ho visto senza vederlo quando ero proprio piccolo piccolo ma chissà magari mi è entrato nella testa già allora bene allora direi di lasciare un po' ancora non so quanto dieci minuti in quarta d'ora se persone vogliono qualcuno vuole intervenire c'è la possibilità di avere un microfono sì se lo si può c'è qualcuno che vuole da sopra sì allora forse riusciamo a dargli buongiorno volevo volevo chiedere nella sua poesia qual è la relazione tra tra la voce e l'universale cioè se mi semichiariva questo aspetto tra il particolare e l'universale che domandona grazie sì però è una domanda molto giusta molto opportuna in effetti la voce è la singolarità no è la singolarità assoluta perché è quello che noi siamo come ho detto anche nel video è qualcosa che ci rende unici qualcosa che ci fa che ci identifica che ci fa riconoscere quando uno suona il campanello e dall'altra parte ci sono i suoi parenti o amici dice chi è e dice io ma non è che dice nome e cognome dice io e già dalla voce si capisce che è lui e quindi questa è la cosa più individuale no? c'è anche quello che Roland Barthes chiama la grana della voce quindi la pasta quasi impalpabile della voce che è il timbro non tecnico che ci fa riconoscere e d'altra parte l'elemento universale ha ragione perché la poesia non può essere semplicemente un'esibizione di identità la lirica rischia sempre di esserlo perché la poesia lirica parla dei fatti miei però questi fatti miei devono evidentemente avere una rilevanza universale o insomma una certa rilevanza una condivisione perché altrimenti sono semplicemente una confessione privata di cui non frega niente a nessuno e quindi appunto la voce cerca di trovarsi sia nella sua particolarità irriducibile sia nella sua potenziale universalità perché poi alla fine tutti siamo questa particolarità questa individualità è come un'offerta almeno per me lo è la voce nella poesia è come l'offerta della propria individualità alla individualità assoluta irriducibile dell'altro però è una scommessa non è detto che questo avvenga cioè non è detto che la cosiddetta comunicazione ci sia appunto la poesia per me è un rischio comunicativo rischio anche di fraintendimento anche rischio di chiacchiera per esempio di esibizione di fatti propri eccetera però deve esserci se la poesia funziona è perché c'è insieme quello che lei diceva cioè la particolarità assoluta è anche l'universalità tutte e due insieme grazie sì possiamo dare il microfono qua così perché in alto non sentono adesso arriva è qua buongiorno a tutti le faccio una citazione dotta ma però mi pare che si possa attagliare bene a lei gli antichi greci dicevano noi siamo ciò che cerchiamo la mia domanda quindi è forse la risposta ci è già stata data insomma lei è stato in un certo momento della sua vita un muro cieco un muro cieco su cui ad un certo punto la luce ha dato una qualche speranza quella luce che lei vedeva sul muro cieco quindi io penso che lei abbia attraversato in un momento della sua vita questo aspetto lo abbia sentito e l'abbia fatto proprio e da lì si è partito per delle speranze per dare delle speranze anche agli altri visto che la poesia è anche un aspetto di tipo universale e ascoltando le sue parole e suggerimento mi viene spontaneo perché ho avuto questa associazione di idee ho pensato ascoltando le sue poesie ad un quadro di Edward Hopper non so se lei conosce Edward Hopper comunque Morning Sun Morning Sun è un quadro dove veramente c'è un muro dove però splende una lieve luce che proviene dall'esterno e questa ragazza Scarn è appoggiata al muro però vede questa luce si si conosco Hopper ed è stato spesso avvicinato a quello che scrivo ma direi che forse più ancora di Hopper c'è un altro pittore che mi ha non dico influenzato ma insomma che ho frequentato fin da ragazzino cioè Mario Sironi anche lì ci sono dei muri notevoli e anche lì c'è un elemento morale del muro almeno come lo sento io la città ha un elemento etico un elemento di Hopper è più arioso Sironi è molto più severo è molto più duro intransigente eccetera però effettivamente sono due pittori che mi hanno interessato tantissimo e l'immagine del muro viene anche da lì e poi da Basilico come ho detto nel video Gabriele Basilico che purtroppo non ho avuto la fortuna di incontrare ma le sue fotografie mi hanno dato veramente tantissimo lui ha fatto ha creato un'immagine di Milano nei primi anni 80 che era veramente era completamente nuova rispetto a quella che si aveva prima e non è soltanto un fatto tecnico artistico secondo me proprio è perché l'arte come nel caso di Basilico può anche trasformare la visione di una città l'immagine di una città quindi ecco con le arti figurative ho sempre avuto un rapporto molto stretto poi io non sono un fotografo non sono un pittore purtroppo ma mi interessa moltissimo poi Marco Petrus naturalmente l'avete visto sì sì in un certo senso si ha ragione beh un muro cieco nel senso che le poesie che poi ho pubblicato diciamo il momento in cui a cui accennavo anche tra le poesie che ho buttato via che ho respinto e quelle che poi ho scritto è stato un momento di buio molto forte nella mia vita primissimi anni 80 adesso non voglio dilungarmi su questo sarebbe anche noioso ma credo che la poesia nasca anche da da qualche cosa di molto doloroso che poi non si sente io credo nelle mie poesie questa cosa non si sente quasi per niente no no si sente si sente moltissimo Umberto non la senti tu perché non la puoi risentire sì ma voglio dire non è non è qualcosa di gridato di esplicito eccetera diciamo c'è una ferita dentro queste parole che sono le parole più semplici che si possono immaginare però nascono da una perdita e da una mancanza molto pesante molto dura che io spero di aver superato insomma ma è stato perché la scrittura è anche questo ritrovare la realtà ritrovare la la luce la pace non so come dire la pacificazione la comunicazione sono Sandra per me è un'occasione ghiotta questo film perché Umberto e io ci conosciamo da quasi 50 anni avevamo 20 anni in statale e quindi in un periodo della mia vita ci siamo frequentati e questo documentario conferma qualcosa che io a 20 anni prima di capire sentivo sentivo una certa ritrosia nel tuo carattere una certa propensione a essere una persona che parlava poco assolutamente non compiacente che non cercava di compiacere o di piacere che era se stesso ma anche un po' spigoloso non lo capivo chiaramente e anzi all'inizio di questa frequentazione attraverso sicuramente anche gli Stormi Six e il movimento studentesco avevo l'impressione che ci fosse anche un po' di come si di 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 distacco e quasi un po' di non dico arroganza perché è un giudizio troppo severo non lo pensavo e non lo sentivo però certo una difficoltà ad entrare in una relazione anche superficiale così di conoscenza se non di amicizia e mi ha colpito guardando questo documentario che tu inizi dicendo che quando sei arrivato a Milano hai sofferto la cupagine di questa città la tristezza di questa città e però mi viene da dire che quello che tu trasmetti è anche oltre a questa ritrosia a esibirti questo ritegno anche un pochino di questa tristezza quello che appare la tua difficoltà a sorridere per esempio anche in tutto il documentario è sintomatica sorridi poco come se però avessi un pudore un pudore dei tuoi sentimenti quindi questo documentario è molto interessante io sono molto grata di averlo visto perché è una cosa rara dopo quasi 50 anni riuscire a scoprire di una persona che si è frequentata a 20 anni una come dire una completezza di 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 quello che la persona è non solo un contorno con la matita ma proprio l'essenza di una persona è davvero un'occasione rara quindi volevo la domanda era se voglio stanarti anch'io provare se effettivamente tu ti riconosci in una persona ritrosa e pudica dei suoi sentimenti perché questo è quello che io penso grazie grazie sì senz'altro me lo dicono tutti me lo dicono non tutti ma tanti quindi devo pensare che sia vero effettivamente è un mio modo di essere e anche un mio modo di scrivere in un certo senso non è che lo faccia per arroganza appunto è una questione di timidezza forse o di ritrosia però alla fine in realtà la mia tensione verso gli altri verso i miei simili è fortissima altrimenti non l'avrei scritto non l'avrei cantato non l'avrei scritto delle canzoni eccetera quindi certo ci sono persone che sono capaci di comunicare con molta più estroversione con non è il mio caso io sono un po' orso come si suol dire c'è un'altra domanda sì mi chiamo Giorgio Giorgio Giannoni una premessa è la prima volta che ti sento parlare ti ho sentito cantare ovviamente negli Stormy Six l'età è un po' la nostra diciamo però mi sono avvicinato a te passando per il tuo passaggio è stato questo il legame nel senso che con lui ho fatto un po' di manifestazioni e di cose varie legate alla Costituzione e al suo passato devo anche ringraziarti per il libro di poesie che mi hai autografato perché tuo padre lo aveva acquistato te l'ha portato e te l'ha fatto firmare ecco come cosa volevo chiederti tuo padre che cosa ha rappresentato per te sia partendo forse dagli anni 70 dagli Stormy Six fino ad arrivare al tuo discorso poetico ecco conoscendolo non penso sia stato un muro ecco lui ultimamente mi chiedono molto di mio padre e in realtà non mi chiedono mai di mia madre che è stata molto importante soprattutto per la poesia e mio padre l'ho detto anche ovviamente è stata una figura centrale centralissima perché era un uomo era un uomo di una coerenza di una rettitudine fuori dal comune un'onestà e anche di un coraggio però con la poesia ha poco a che fare mio padre ha molto più a che fare mia madre che che aveva un carattere completamente diverso e che insegnava inglese tra l'altro e quindi dal punto di vista della lingua io e anche della voce devo dire devo tantissimo a mia madre certo mio padre è stato come una specie di insegnamento vivente fin da quando ero piccolo ma l'ho raccontato tutto sia per me sia per i miei fratelli perché non era uno che faceva grandi prediche questa è la cosa che mi piaceva molto era uno che ti raccontava le cose che aveva fatto ma che non ti faceva tutta la morale del del perché lui diceva ho preso questa decisione ho fatto questo tra l'altro più andavo avanti con gli anni più mi rendevo conto di quanto giovane fosse quando ha fatto le scelte che ha fatto perché nel 43 mio padre aveva 23 anni quindi è stato un momento in cui non so quanti riescono a fare beh sì molti l'hanno fatto per fortuna ma insomma quando cercavo di identificarmi con lui pensavo accidenti io a 23 anni non so se avrei avuto il coraggio di andare in montagna invece di nascondermi da qualche parte e questo tra l'altro poi l'ho anche scritto c'è una canzone degli Stormi Six nel biglietto del tram che si chiama Otto Settembre che è un po' ispirata alla storia di mio padre anche se non lo si nomina è una cosa molto che resta molto sullo sfondo però appunto è un'educazione è stata un'educazione molto implicita molto attraverso l'esempio più che attraverso un ammaestramento diretto non so se ci sono altri interventi altre domande questo documentario questo film ti accompagnerà adesso tu lo sai dopo le cose che hai ascoltato qua anche le domande diciamo anche perché spesso quei poeti non li si conosce non li si frequenta sono sempre sui libri ecco come ha detto Francesconi è stato il primo che era fuori dai libri di scuola quindi è uno stigma che ti resta e quindi questo lo devi sapere Umberto Fiori è uno dei più bravi e importanti poeti italiani la sua discrezione come si vede il suo pudore le sue poesie davvero sono ci accompagneranno nei prossimi anni ecco al di là di quello che sarà la nostra la tua vita sono davvero da questo punto di vista un momento molto importante della letteratura e soprattutto della vita generale del nostro paese dagli anni Ottanta in poi quindi ti vorrei ringraziare moltissimo per tutto questo ringrazio te tantissimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti